Per l'ottavo anno consecutivo torna a Teramo l'evento dedicato agli amanti dell'attività fisica denominato sportissimamente lo sport sotto le stelle, previsto per sabato 24 settembre a partire dalle ore 18. Una manifestazione patrocinata dal comune di Teramo e dal comitato provinciale del CONI che per l'edizione 2016 vede la partecipazione di oltre 70 associazioni sportive. Atleti e giovani si esibiranno in diverse discipline, in ogni angolo del centro storico le federazioni sportive offriranno la possibilità ai visitatori la pratica delle discipline con dimostrazioni e esibizioni grazie a campi attrezzati, canestri, porte, reti, palloni, racchette, mazze da baseball, moto, kart, sub, calcio balilla, kimono, biciclette, pareti di arrampicata, trapezzi, tiro a segno, spinning, walking, esibizioni di danza, atletica leggera, arrampicata, pattinaggio, scherma, rugby, skateboard, tiro con l'arco, tennis da tavolo e molto altro. Inoltre grazie alla collaborazione delle tante società e associazioni locali che promuovono quotidianamente l'attività fisica si cercherà di battere i positivi risultati dell'ultima edizione della Kermess che ha portato in strada oltre 100 discipline sportive. Sabato 24 il centro storico sarà quindi attrezzato per l'occasione e in gran parte chiuso al traffico per ospitare le esibizioni e le iniziative messe in campo. Oltre allo sport protagonisti della serata saranno arte, musica, shopping e artisti di strada che animeranno le vie del centro storico di Teramo fino a tardanotte.